Beh Giovanni, allora adesso andiamo a prendere pesate, altezza, andiamo a prendere dei valori e andiamo a vedere anche un pochino la tua valutazione corporea, ok? Ho più di due, fortunatamente tu non hai grossi problemi di peso, quindi andiamo a vedere la tua altezza e il peso, ok? Una cosa molto importante è proprio andare, ok? Una cosa molto importante quando si inizia un allenamento, un programma di allenamento è la valutazione corporea, perché è la base dove si parte e dove si parte dalla conoscenza della persona ed è la base anche per poi costruire un fisico e per anche valutare insieme gli obiettivi a cui si vuole raggiungere. Logicamente Giovanni per fortuna è già a un'ottima base, come vediamo, è un bellissimo ragazzo, ha già un fisico, come dicevo, con i canoni che adesso vogliono i ragazzi, cioè un fisico armonico, tonico, non troppo gonfio, ma diciamo definito. Ecco, questa è una cosa importante ed è importante anche per arrivare a questi risultati, logicamente, ed è anzi io direi il primario, seguire una corretta alimentazione e farsi seguire anche per avere una corretta alimentazione, perché l'allenamento, seppur fatto in maniera intensa, ha, diciamo, dei limiti se non è correlato a una buona alimentazione.